Eccoci amici, bentrovati, l'appuntamento con l'informazione di Teleibrea. Per chi lo volesse sapere, abbiamo fissato per giovedì prossimo l'appuntamento per l'intervista con l'amministratore unico della SAC, Nico Torrisi. Ne parleremo ampiamente dopo, per chi lo voleva sapere, comunque è uscito anche un post sulla mia pagina Facebook, io ho una pagina sia su Facebook che su Instagram, ma è una pagina di lavoro, cioè è la pagina di Mario Papa come direttore di Teleibrea e vengono pubblicate solo cose che riguardano l'informazione. Ne parleremo dopo perché c'è un'ampia pagina dedicata ai voli agli aeroporti con le notizie dell'aeroline siciliane e anche questi voli da Palermo verso New York diretti e sono interessanti. Però apriamo parlando di due cose molto importanti per la Sicilia. La prima riguarda l'emergenza idrica, va bene che piove un po' e poi devo dire che nonostante nelle piantine della Sicilia da noi ci sia questo rosso come se effettivamente da noi proprio siamo in pieno deserto, non è così, almeno in provincia di Ragusa. L'acqua non manca, la diga quella di Santa Rosalia è pienuzza diciamo e tra le altre cose oggi sta piovendo, martedì sera sta piovendo, dal pomeriggio pioverà anche domani. Non è granché però aiuta perché vi devo dire che andando nelle nostre contrade con la macchina andando un po' in giro mi rendo conto che i prati sono molto verdi quindi in qualche modo l'umidità dalle nostre parti funziona. Quindi cosa ha fatto il Presidente della Regione? Ha nominato Dario Cartabellotta che voi certamente ricordate è stato commissario della provincia regionale di Ragusa, un altissimo funzionario, è anche lungo lui per i fatti suoi, Dario Cartabellotta è un altro funzionario della Regione che si occupa sempre di agricoltura, di promozione, io lo ricordo quando insieme abbiamo fatto l'Expo del 2015, attenzione, lui era un altro funzionario della Regione, io invece rappresentavo un po' la Ragusa, il consorzio un po' della nostra città e siamo stati all'Expo, devo dire una bella esperienza. Allora dice San Martino, il governo regionale mette in campo azioni concrete per aiutare gli allevatori colpiti dalla siccità. Ecco questo è un problema che purtroppo dobbiamo rivedere, lo abbiamo molto forte proprio nella zona di Caltanissetta di Enna e quindi dice un'occasione di incontro di crisi, siamo consapevoli del grave disagio tra i provvedimenti, la semplificazione delle procedure e il sostegno delle spese per la transumanza, l'essonero dei pagamenti dei canoni d'affitto delle superfici a pascolo pubblico, l'erogazione dei primi contributi, questo è molto importante, di 5 milioni per l'acquisto del foraggio, perché se non c'è l'erba gli animali non mangiano, allora il foraggio che è un po' si basa sul mercato, il foraggio diventa costosissimo e poi le aziende, mi leggevo l'altra volta che non so quanto, un quintale di foraggio costava 30 euro, allora costa 90, quindi 3 volte tanto non è facile dare aiuto agli agricoltori che continuano la loro protesta, ma di questo ne parleremo ampiamente domani. Invece, quindi questa è un'iniziativa, poi l'attingimento dei corsi d'acqua, una semplificazione per le procedure e l'utilizzo delle autobotti per il trasporto dell'acqua per gli animali, non si poteva fare di più, ma già qualcosa è certamente fatta e questa è la prima notizia che ci arriva dalla Regione. La seconda riguarda, questa è interessante, perché riguarda questo incontro fra il presidente Schifani, oggi dedichiamo l'apertura a lui, e il ministro Fitto. Già se ne era parlato, c'è anche un articolo sulla nostra rete eblea dell'amico Peppe Lizio e diceva c'è un bel po' di soldini in giro e si tratta della bellezza di 6 miliardi e 800 milioni, che però vi devo dire non è che sono poi tantissimi, anche perché di questo 6 miliardi e 8, 1 miliardo e 100 se lo sono non rubato, se lo sono agghiacciato per il ponte, diciamo 6 miliardi e 8, però di 1 miliardo e 100 ce lo dà e altri 800 milioni sono stabiliti per i termovalorizzatori. La storia dei termovalorizzatori, sapete, ha molti pro e molti contro. Io credo che si possano fare, perché abbiamo visto che in altre nazioni i termovalorizzatori non solo funzionano, ma producono ricchezza perché producono energia, ma anche la gente li va a pagare per smaltire. Noi siamo fra quelli che mandiamo le nostre balle di immondizia, comunque di rifiuti, li mandiamo in Danimarca dove loro le prendono, le bruciano, ci fanno energia e ci fanno i soldi che noi paghiamo non so quanti euro a tonnellata che gli mandiamo, quindi c'è il costo di mandarli là e per giunta paghiamo un dot. Averli qua secondo me è una soluzione meno violenta di altre, ma il resto come lo utilizzeremo? E qui c'è un elenco. La parte più consistente delle risorse andrà udite udite al settore delle infrastrutture per la mobilità. Si tratta di 2,4 miliardi che non sono bruscolini impiegati per interventi nel settore trasporti e mobilità di cui un miliardo e 3 al cofinanziamento sul ponte dello Stetto, mentre un altro miliardo e 100 milioni andranno a infrastrutture. Quindi con un miliardo e 100 milioni ci dobbiamo preparare la cena. Dice, Mizz, un miliardo e 100 milioni? Picciutti, ieri abbiamo parlato che per finire la Siracusa a Gela ci vogliono 2 miliardi. Che cosa ci facciamo con un miliardo e 100 milioni per le infrastrutture della Sicilia? E' simpatico, fitto, che viene in Italia e schifano il cioccolto dentro di prima. C'è che bene, ne restano 6 miliardi e 8, però un miliardo e 3, non sono 8, quindi 5 miliardi e 5. E poi alla fine con un miliardo per le infrastrutture dice però meglio di un pugno nel naso. D'accordo, ma non ci possiamo dire ma bravo, bravo, bravo. E' vero che il governo dice questa è la zita, non è che possiamo allungare la coperta. La coperta è questa. Che cosa dice? Allora, poi c'è ambiente e risorse, sono stati programmati 2 miliardi e 1, ambiente e risorse naturali. Agli altri 800 milioni sono per i termovolarizzatori, poi ci sono 340 milioni per le risorse idriche, 350 milioni per la depurazione, interventi sugli albi e fluviali, 250 milioni, il dissesto idrogeologico 400 milioni, l'eluzione costiera 50 milioni, poca roba non è. Poi ci sono 450 milioni per la competitività delle imprese e soprattutto al comparto industria e servizi e in quello del turismo e delle ospitalità. Poi c'è anche il settore sociale e salute, tutto lo schifio che abbiamo, 250 milioni, che ripeto, sono bruscolini nella problematica della sanità. Poi una somma di 100 milioni prevista per settore energia e riqualificazione urbana e poi anche l'edilizia scolastica. Attenzione, poi ci sono i fondi che normalmente una regione stanzia per fare certe cose, però tutto questo clamore per questo i fondi, c'è, sì, i fondi ci sono, ma non mi stanno impressionando perché abbiamo visto che il miliardo e tre se lo prendono loro per il ponte e speriamo che non si faccia, almeno ci tornano il miliardo e tre, se è vero, perché secondo me manco ce ne vanno questo miliardo e tre, poi se non lo fanno se lo prendono loro. Però per quanto riguarda i collegamenti, le strade, è stato fatto un elenco che ci sono delle strade che dobbiamo fare per forza da Grigento nella zona di Ragusa, non parliamo poi di altre zone nel centro della Sicilia, queste cose. E poi ne parlavano anche ieri in televisione questa storia delle 13 ore per andare da Trapani a Ragusa con il treno, ed è vero, 13 ore, è vero, se io potessi, se avessi un po' di tempo mi farei questo viaggio in treno. Ora magari se riesci a studiare bene tutto quanto non impieghi 13 ore perché tu dovresti partire da Ragusa, vai verso Caltanissetta, a Caltanissetta cambi e prendi il Catania-Palermo, poi da Palermo prendi il Palermo-Trapani, insomma diciamo che con 6-7 ore ce la faresti, in fin dei conti in macchina ne impieghi 4. Poi se gira dall'altra parte è un po', diciamo non è meglio dire la verità, però per esempio c'è un collegamento intelligente che è il Palermo-Agrigento, quindi se con il treno te ne vai ad Agrigento e poi fai l'Agrigento-Palermo e poi trappi nel capace che ce la fai in 5 ore, però è chiaro che i servizi dei treni fanno ridere. E poi c'è il discorso, ma che ci facevamo con due miliardi, con un miliardo e tre quando solo per alcune strade. E torniamo all'appuntamento di ieri a Gela, noi abbiamo queste interviste con il sindaco di Gela, Lucio Greco, e con il sindaco di Vittoria, Ciccio Aiello. Vittoria e Gela sono collegati, ma sono le due città più importanti. Vittoria da questa parte, provincia di Ragusa, Gela all'inizio della provincia di Caltanissetta, sono città che poi hanno un grande fermento dal punto di vista dell'economia, perché Gela è una città economicamente molto forte, anche molto grande come abitante, più grande di Ragusa, più grande di Vittoria, certamente. Allora queste due città meriterebbero un collegamento migliore. E c'è stato questo incontro, ieri il Presidente del Cass, che il Cass dice, il Presidente del Cass, ha detto che sì, bella è, ma ci vuole i soldi. Allora a questo punto sentiamo i due sindaci che parlano su come si può portare avanti un discorso dal genere. Sentiamo.